Gentile senatore vorrei rassicurarla che il sottoscritto e qualsiasi ministro che compone questo governo è nel pieno delle sue proprie prerogative, di questo può stare assolutamente tranquillo, tutti agiamo con la più ferma determinazione, abbiamo l'obiettivo di difendere gli interessi degli italiani, è l'unica ragione che ci ispira è l'unica ragione che ci guida